Stiamo per sorteggiare i nomi dei vincitori. Abbiamo per comodità utilizzato un sistema di selezione automatica. Cristina di Ancona, Marie, poi verificheremo di dove, Thomas di Rennesonange, Sabine di Gilles d'Orange, Jean-Louis, Marina della Fermo Cartier, Nuria del Gas Vignola, Luigi di Venezia, Sophie di Adab-Vilvert e Fabrizio di Bergamo. Grazie ancora a tutti. A presto in Sicilia.